Ieri sera c'erano proprio tutti a festeggiare lo scialpinista Michele Boscacci, ma è così gremita la palestra comunale di Albosaggia con 500 persone, pronta ad osannare il beniamino di casa che ha celebrato insieme a tutta la comunità, e non solo, la sua stagione invernale esaltante, coronata con la vittoria dell'ambita Sfera di Cristallo nel circuito di Coppa del Mondo, di scialpinismo. Tra applausi e tifo da stadio, la serata condotta dalla voce storica dello scialpinismo Silvio Gandin, ha ripercorso il cammino del 26enne di Albosaggia, che dalle prime corse sugli sci a 14 anni è riuscito a coronare il sogno di una vita, conquistare la Coppa del Mondo. Una conquista quella di Michele che di certo ha reso orgogliosa tutta la valtellina, e non a caso alla festa organizzata dalla polisportiva Albosaggia c'erano tutte le massime autorità locali. Accanto al responsabile del centro sportivo esercito Nicola Invernizzi, al direttore tecnico della nazionale di scialpinismo Stefano Bendetti, a sponsor, amici, appassionati e fan, che anche durante la serata hanno tifato il micchi come se fosse in gara, con tanto di campanacci, cosa che di certo ha fatto emozionare il nostro campione. Beh, senz'altro qui a Albosaggia non scherzano e hanno messo in piedi una bellissima manifestazione. Io cosa posso dire? Sono senza parole di fronte a quello che hanno organizzato i ragazzi della polisportiva Albosaggia, con il comune di Albosaggia e il mio fan club stanno organizzando una bella serata. Io non sono un uomo da serata, sono più una persona che va sulle cime, però si fa anche questo perché dopo una stagione così ricca di successi è anche bello e fa piacere che si viene ricordati così. Sul palco insieme a Michele è il socio di sempre Robert Antonioli, vincitore della Coppa del Mondo di Scialpinismo Specialità Sprint e secondo nell'assoluta, che con lui, spesso e volentieri, condivide fatiche e successi. Tra video e battute, il Bosco ha poi ricordato tutti i successi ottenuti in questo inverno davvero eccezionale. Quest'inverno sono partito abbastanza bene con i campionati italiani, che ho vinto tre titoli, poi le prime gare di Coppa del Mondo subito con dei podi nelle individuali, un podio nella vertical, e poi ci sono stati i campionati europei, che ho vinto la prova individual. E poi un po' sul finale, con le grandi classiche, col Tour de Ruiter, che ho vinto con Matteo Idallin, che è stata anche la consacrazione un po' della Coppa del Mondo. Sicuramente è una stagione che non smette mai di soddisfarmi, però adesso bisogna un po' ricaricare le batterie perché sono arrivato abbastanza approvato alla fine. Vediamo un po' come va quest'estate, cercherò di rilassarmi, sempre allenandomi, e poi il mese di settembre sotto con una nuova preparazione per la stagione che verrà. Sfera di cristallo, che attualmente non è stata ancora consegnata al campione del Bosaggia, ma poco importa, i ragazzi della Polisportiva hanno pensato di omaggiarlo con un altro grande trofeo, una bella bruna alpina, perché non tutti forse sanno che Michele, oltre ad essere un grande sci alpinista, è anche un infaticabile agricoltore, fiero delle sue origine da Busaccio. Ad omaggiare questo giovane talento, anche la banda cittadina, con tanto di nodi mameni, il gruppo alpini del Bosaggia, i ragazzi della Spacca, che hanno consegnato le magliette targate in bichibosca, ed ovviamente l'amministrazione comunale, con una targa d'argento. Ma ora, per Michele, è già tempo di volgere lo sguardo alla prossima stagione, e chissà, magari, con l'intento di poter festeggiare la seconda Coppa del Mondo e ripetere questa grande festa. Senz'altro l'obiettivo è quello di far bene, però non pensiamo alla sfera di cristallo del 2017, visto che si è conclusa solo qualche giorno fa, quella 2016, e stiamo tranquilli e sereni con quella.